Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Falco, lanciavamo bombe, facciamo cose, questo è più un gestionale, un gestionale un po' atipico perché nei comandi come scelta mi ha dato il pad e poi la tastiera, quindi si presta anche per il pad, ampiamente per il pad. Ha un'integrazione con Twitch, quindi non so come funziona effettivamente, qui c'è la modalità costruzione libera e poi c'è la modalità invece classica, inizia. Sembra molto interessante, vediamo il tutorial, lo proviamo perché è molto interessante perché è un open world sandbox, ci sono gli estrattori di ricerca, ci sono le fazioni e ogni fazione ha il suo albero di ricerca. E più aumenta la popolazione, più si sbloccano cose, quindi proviamo il tutorial, lo cominciamo, è un gioco veramente molto strano. La nostra gente è stata rovinata dalla guerra dell'albero, Lancro, Castellus, Ponte Fauci, Porto Remit. Dopo decenni di attriti non resta nulla che prosperose case libere, abbiamo preso i nostri averi e ce ne siamo andati per inserirci di nuovo in pace. Poi graficamente è carinissimo, lontano il signore della guerra e dei feudi, ce la faremo perché il passato è stato costruito sulle nostre spalle e con le nostre mani forgeremo il futuro. Questa è casa libera? Sì, secondo me non sarà semplice, però. Preparazione delle risorse. Dovrai manovrare il ricognitore, sviluppare una torre di comando e esplorare il mondo aperto. Perfetto. Vediamo come funziona. Buzz, ci muoviamo. Finalmente sei qui e abbiamo già costruito alcuni edifici essenziali. Ti aiuterò a collegarli e avviare questo insediamento. Voglio creare con questo video, vediamo se vi creo della curiosità, perché non ne parlano tanto di questo gioco. Ci concentriamo su un singolo edificio alla volta in modo da poter costruire verso l'esterno in vari modi e in un secondo momento verso l'alto. Ok. Ti aiuterò il pulsante centrale mouse per ruotare il visuale intorno all'edificio selezionato. Usa X e Z per... Eh, vabbè, ma uso la rotellina. Sì, perfetto. Costruisci una torre. Ok, quindi... Collegalo all'avamposto alla linearia. Lo colleghiamo. Ah, praticamente trascino. Ok. E si vede che è un controllo fatto per il pad. Osserva come i lavoratori stanno già costruendo case e industrie lungo il camminamento. Ovunque tu costruisca, se i lavoratori possono raggiungere quel luogo, vi si insedieranno. Questa è la tua linearia. Produce e trasporta lineame attraverso i camminamenti e permette di costruire una torre di legno base con camminamento verso di essa. Ok, quindi cosa faccio? Estendi la linea... Estendi la linea di costruzione con mouse fino a visualizzare un cerchio. Poi premi il pulsante destro. Costruisci... Ah, ma la torre dov'è? La torre è lì. Ah, qua ho demolito. No, l'ho già fatto. Ok. Devo farlo fin qua? Ok. Il lineame può viaggiare solo sul numero limitato di camminamenti dalla linearia. Ma questo numero può essere aumentato incoraggiando i lavoratori a effettuare costruzioni sui camminamenti collegati alla linearia. Ok. Costruisci altre torri, altri camminamenti di collegamento dalla linearia e esamina il flusso di risorse con TAB per vedere la produzione della linearia crescere. Quindi praticamente qua vedete che questa è la cava di pietra più 15. Qui da più 8 pietra, la torre da non so più 3 cosa, ma dobbiamo andare avanti quindi. dobbiamo fare altri camminamenti, ma non saprei dove andare con i camminamenti. Cioè non me ne dà altri. Non vedo neanche la terraferma. Seleziono l'edificio più vicino, pulsante sinistro. Seleziono la torre. Ok, è da qua costruisco. Ok, è una cosa che non è proprio comodissimissima. Però Proviamo ad andare di qua. Vediamo se me lo fanno. Ok. Ora abbiamo accesso alla cava. Ah sì, questo l'ho già fatto prima. Sono andato oltre. Ma io continuo con i camminamenti. Sta aumentando anche la legneria. Perché? Vedete che è più 17 legno. Io più costruisco camminamenti, più aumenta la produzione di legna. No, adesso no. Probabilmente non ho trovato nulla di... Però continuiamo. Adesso andiamo esplorando. Non vedo altro. Puoi utilizzare questa pietra per potenziare diversi edifici, camminamenti, proprio come per la legneria, permettendo ai laboratori di costruirvi intorno. L'industria della pietra può espandersi. Ok, io clicco sulla... su questa. Ah, ok. Varietà di produzione. Laboratori, legname, pietra, ferro. Ok. Cioè, sì... E no, vedete, io posso costruire solo sulla terra ferma. E se costruisci di qua? Andrei a creare dei collegamenti. Il torre di pietra crea camminamenti di pietra. Se costruisci un camminamento accanto a una torre di pietra, non sarà in legno, ma verrà potenziato in pietra. Ah! Ah, praticamente. Sicuramente la cava di pietra produce pietra. Più la costruiamo, più produce tutto in pietra. Se ci avviciniamo a un camminamento di legno, perché... Ok, facevo fatica a capire questa meccanica qua. Praticamente qua è una legneria, qua produce legno. Quindi io più costruisco in legno, più lui mi fa in legno. Ma se io tecnicamente faccio dalla cava di pietra alla legneria, potenzio tutto in pietra? Eh sì, ogni struttura di produzione mostrerà il proprio potenziale produttivo. Ok. Questa cava funziona in maniera simile alla legneria, produce pietra, che può viaggiare sul numero limitato di camminamenti. Quindi io praticamente sono andato qua, ho potenziato questa torre in pietra. Ok. E adesso devo andare là. Quindi vado là. Non so cosa sia questo, ma ci stiamo costruendo sopra. Seleziona l'avamposto. Solle porti possono essere costruiti in profondità dall'incognitore. Ok. Seleziona il tuo avamposto per espanderlo ulteriormente. Quindi io posso selezionare la torre. Ok. Ok. Posso farlo fin qua. Ok. Ma non capisco. Anche qua c'è una torre. Teoricamente. Quindi se io prendessi la cava di pietra, la costruisco fin lì e mi diventa di pietra. Però se io estendessi tutto qui, posso estenderlo così, il camminamento. E posso arrivare a questa torre qua. Teoricamente sì, mi diventerà di pietra. Non so esattamente cosa io stia facendo. Però qua è bella, bella, grossa come... Ogni struttura di protezione mostra il proprio potenziale produttivo. È molto... È molto... Intricato come gameplay. Anche gli avamposti possono essere potenziati. Utilizziamo la pietra per potenziare l'avamposto al secondo grado. Quindi io posso andare da qua all'avamposto. Lo faccio in pietra. Ok. E vedete che la pietra viaggia di là. Ma io ho potenziato la legneria di pietra. E dalla legneria vado all'avamposto, immagino. Io seleziono l'avamposto. Eh sì, sta andando tutto verso l'avamposto. Ah, praticamente io seleziono l'avamposto. Clicco col destro. Ok. E l'ho fatto grande. Il fondamento deve essere nel laboratorio di costruire alloggi a livello superiore, aumentando la produzione dei laboratori. È una... Aggiungere il fondamento... Ok. Aggiungere il fondamento... Estendi lentamente la linea di costruzione fino a visualizzarli con la quadrata. Vedete che c'è lì con la quadrata. Ok. Ah, ok. Cioè, sto costruendo delle cose fino a visualizzarli con la quadrata. Praticamente con l'icona quadrata è l'icona che mi fa espandere... Ok. Sta facendo praticamente un sacco di roba. Sì, è una cosa assolutamente... Fuori di testa. Per... Vedete che sto facendo un'espansione del territorio. Torri sono dotati di fondamenta in legno, in pietra, successivamente torri di comando. Anche le torri di comando sono dotate di bastioni. Quindi io sto espandendo... Cioè, è molto bello da vedere, devo dire. Io posso tornare a cliccare qua e costruire da un'altra parte. Quindi espando questa zona, così. Adesso è un po' più chiaro, quello che sto facendo. Vedete che posso fare... Ok. Ok, ho espanso questa sorta di torre. Ok. E' ora di cominciare a esplorare il mondo che ci circonda in cerca di minerali di ferro. Prendi il volo con il nostro dirigibile ricognitore. Usa il tuo ricognitore per navigare a Larsi. Sì, e dov'è? Possiamo interagire con altre frazioni, chiedere i commerciari, dichiarare guerra, persino invitarle a unirsi a noi. Ok. Passa al ricognitore. Spazio. Ok. Siamo sul nostro dirigibile. Quindi il dirigibile si muove. Apri la mappa M. Praticamente abbiamo la mappa. Abbiamo il comando. Abbiamo... Dove siamo noi? Abbiamo la linearia. Abbiamo la cava di pietra. E adesso... Costruire ulteriori... Estrattori di risorse, proti avamposti sulle altre isole. Proteggilo facendolo accompagnare da altre unità. Più avanti ci saranno modelli... Diversi modelli disponibili. Ok. Ah, più avanti sembra di qua. Che sembra che ci sia del ferro qua su quest'isola qui. Mostra i nostri possedimenti. Quelli che possiamo raggiungere. Ok. Quindi praticamente qua abbiamo una... Quindi io clicco con il destro e costruisco questa. Abbiamo accesso al ferro. Dove deve essere trasportato via mare. Costruiamo una rotta commerciale per le navi. Avanti e indietro possono trasportare il ferro e altre risorse. Voglio essere onesto. Non ci ho capito tantissimo. Perché il tutorial è una serie di frasi, una sopra l'altra. E i menu qua in alto, le azioni disponibili, confondono. Perché sembrano cose del tutorial. Ma in realtà sono quelle che... Cliccate una cosa e vi dice cosa potete fare. Costruisci un attore e il pulsante destro. Costruisci un attore. Ma non sta aggiungendo il nostro inserimento. Costruisci due porti per trasportare il ferro e il mare. Usa space. Ah, con il ricognitore. Costruiamo un porto. Ok. Quindi praticamente io posso venire qui e costruire un porto. Vieni qua. Costruisci il porto qui. Ah, sì, mi dà il simbolo dell'ancora. Ok. Qua. Costruisci il porto qua. Perfetto. Non è collegato. Assegna capitano. Assegna un capitano con una sloop. Ah, ok. Allora, andiamo avanti. E facciamo un altro porto. Vediamo se lo possiamo fare qua. Ah, adesso si capisce. Adesso inizio un pochino a capire. Praticamente qua abbiamo la costruzione del porto. Non è fornito il ferro richiesto. Sì, va bene. Ok. Quindi adesso c'è qualcosa che non va. No, non c'è niente che non va. Stanno comunicando. Stiamo portando il ferro anche. Vedete che adesso portano anche il ferro. Adesso pian piano sta arrivando anche il ferro da là. Adesso posso premere qui e tecnicamente io posso andare a, selezionando la torre, andare a costruire le cose. Potenziale produce 6 di ferro. Sì, no, qua non posso costruire nulla. Allora, usa space per selezionare. Ok, fammi passare a... Ok, allora... Avvicinate all'avamposto. Ricognitore. Direcci di ricognitore verso l'avamposto. Freccia dorata sulla bussola. Ti indicherà la direzione per tornare all'avamposto. Sì, è che è questa freccia qua che vediamo. Stiamo tornando all'avamposto. Devo andare qui. Passa la modalità terreno. Allora, avvicina all'avamposto. Usa spazio per tornare alla modalità terreno. Seleziona l'avamposto. Ok. Con il ferro possiamo cominciare a costruire strutture difensive come le torri di comando, ma prima di farlo dovremmo potenziare il nostro avamposto e renderlo una cittadella. Le cittadelle e i laboratori che forniscono sono una delle varie fonti di influenza per una fazione. Trova acquisisce avamposti di varie fazioni finché possano popolare il nostro insediamento con la loro gente, sbloccando così nuovi capitani e comandanti da ingaggiare. Ok. Potenzial avamposto in una cittadella. Quindi, come faccio? Cioè, sto costruendo cose a caso. Io premo sull'avamposto. E... Vedete che sto espandendo ancora perché vado sulla... Cioè, è veramente, potenzialmente il gioco è veramente bello. Ma è strutturato per essere giocato col pad e questa cosa non mi va giù. Poi continuano a parlare... Ma... Non lo so. È un peccato. Peccato davvero. Perché secondo me se spiegato meglio sarebbe stato più bello. Comunque adesso sto costruendo a cazzo. Devo spostare... Devo spostare... Allora, io seleziono questo. Ok. Clicco col destro e diventa cittadella. Ok. Questo me lo sono ricordato. Me l'aveva detto prima. Quindi è diventato... È diventato una cittadella. Quindi abbiamo la cittadella. Recupera via mare con la nave il ferro. Recupera il legno qui. Recupera la pietra lì. 8 di pietra, 15 di legno e 8 forse... No, 6 di ferro. Ok. E abbiamo la nostra cittadella. Ora, che dobbiamo fare? Potenzia una torile di base o di pietra diverse volte finché non diventa una torile di comando. Ok. Prendiamo una torile di comando che potrebbe essere... Vediamo, ne avevamo una qua. Questa. Questa qui. No. Questa. Qualch'era. Torre di comando. Clicco col destro. Non c'è ferro disponibile per questo potenziamento. Ok. Dobbiamo aspettare che torni il ferro allora. Perché vedete che il ferro arriva e ha l'icona... Non lo so di cosa, ma adesso dovrebbe tornare perché è arrivata la nave. Parcheggerà e torna indietro. La pietra arriva. Ma non comunicano più. No. Il ferro è viola. Quindi... No, sta andando, quindi teoricamente... Ok, è tornato il ferro, infatti, infatti, infatti. Allora, io adesso vado sulla torre, la seleziono, clicco con il destro, mancano i metalli per costruire la struttura. Perché non è raggiunto dal ferro, questa. Vedete che qua arriva, ma da qua non arriva. Quindi da qui devo andare qui. Abbiamo costruito un'altra via che porta il ferro qua. Cioè praticamente vedete che il ferro arriva fin qui, ma poi non arriva. Costruiamo un'altra via. E arriva qui. Non arriva fin qua. Perché non abbiamo la via giusta. Che nervoso. Costruiamola lì. Che va qui. Ok, questa torre di comando qua, va. Potenzia questa. Facciamo prima. Ok. La torre di pietra è questa. La stiamo potenziando. Dovrebbe essere diventata torre di comando. Sono in grado di protendersi alta nel cielo. È possibile aumentare nell'altezza raggiungendo altre fondamenta, rendendo miglior accesso ai laboratori. Dove vogliamo costruirla il più alto possibile. Quindi tecnicamente questa cosa. Vedete che cliccando la torre diventa sempre più alta. Cinque piani abbiamo. Cambia il piano da cui stai costruendo. I piani inferiori si costruiscono ai fondamenta, mentre i piani più alti costruiscono banconi e ponti aerei. Quindi posso far così. Bellissimo! Ragazzi, però... Però, però, è un peccato. È un peccato davvero. Perché... Perché poteva essere un gran gioco questo. È un gran gioco, ma ha presentato male. Malissimo, secondo me. Cioè, almeno come tutorial si poteva fare di più, di sicuro. Il gioco mi sta dicendo praticamente tutti i potenzi sotto. Sto spendendo materiali. Vedete che sto costruendo il fondamenta. E poi posso costruire anche sopra, più in alto. Salendo. Usa il pulsante destro. E continuiamo. Usa F per spostarti... Ah, ok. Costruiamo i piani più bassi. E possiamo costruire cose. Fondamente, sono potenti bastioni? Ok. Ma no, ma poi anche... La R sale e la F scende. Ok, capito. Praticamente, possiamo estendere i bastioni. E tutto questo cambia la nostra torre. Sembra solido. Abbiamo un comandante nel nostro seguito. Segniamolo qui. Permetterà due cose. Il comandante potrà generare unità. E in secondo luogo potrà costruire tuarete che fungeranno da difesa. Quindi. Potenzialare. E quindi cosa devo fare? Devo cliccare qui. Tieni premuto il pulsante sinistra selezionata. Aprire il comandante. Ok. Assegna il comandante. E qua possiamo dargli il compito. Il tuo comandante ha sempre alcune unità gratuite per iniziare. Puoi acquistare un'altra con i tuoi frammenti. Le dimensioni dell'attuatore determinano la quantità massima che puoi acquistare. Acquisto uccello da guerra. Gruppo d'assalto. Hai messo comandante a posizione dell'assalto. Alla sua unità tenderanno un obiettivo. Puoi stabilire questo obiettivo dalla mappa o direttamente dal ricognitore utilizzando. Fai scelte intelligenti su come abbini le tue unità. Gli uccelli da guerra vanno bene contro altri uccelli da guerra ma sono vulnerabili contro le difese e i razzi. I dirigibili sono ottimi contro obiettivi di difese lenti ma sono vulnerabili contro gli altri uccelli da guerra nemici. Abbiamo il gruppo di difesa e il gruppo di scorta. Ok. Va bene. I unitari comandanti difensivi pattugliano. Ok. Sì, stiamo in difesa. Questa torre e il suo comandante ora sorvegliano il nostro insediamento facendo crescere la popolazione e si sbloccano altri comandanti e man mano che cresce potremo tassare e ottenere frammenti. Con questi frammenti potremo comprare altre unità per i nostri comandanti. Ci ho messo un bel po' a capire e il gioco non fa nulla per insegnarti bene. Soprattutto con queste azioni disponibili perché io seleziono una cosa è fatto per il pad ma non ha senso. Non ha senso. Cioè devo trascinare e non cliccare col destro se no mi costruisce e cliccare e mi punta questo come centro da cui io poi se ho il triangolino, il tondino è una cosa. Se ho il quadrato e clicco col destro mi crea una piattaforma ma non so come me la crea. Cioè è veramente figo come concetto le risorse, le guerre, l'ambientazione, la lore, quella di The Falconer, quindi questa cosa marittima con i dirigibili, fantasy e un po' dieselpunk. Però è presentata malissimo perché è fatto per il pad, è fatto per il pad, si può cambiare il sistema di controllo con la levetta a sinistra, la levetta a destra e il mouse. Vediamo un po' col mouse come funziona perché è uguale a prima. No mi girano perché è carino come... Adesso io metto controllo mouse. No, lo fa uguale, vabbè. E soprattutto dicevo qua in alto ci si mette un po' a capire perché io clicco e qua mi dice passa al ricognitore. Sembrano le cose del tutorial, in realtà io clicco un edificio e lì mi dice guarda qui fai con lo spazio passa al ricognitore, col pulsante sinistro selezioni edificio, con tab oppure costruisci. Io clicco lì e costruisco una torre che non c'entra una fava perché è lì in basso e non serve a nulla. Poi sono bellissime perché le costruzioni sono modulari e fighissime da vedere e poi ci si può muovere e andare a personalizzare i piani. Quindi io posso andare a creare un ripiano qui e diventa minastiri. Oppure cliccando qui io l'aumento in altezza ma credo sia già all'altezza massima a questo punto. Tra l'altro ho cambiato la modalità di comando, non metterò più. No, è giusta perché torna sempre lì quindi. Ragazzi, io non so cosa dire, non so cosa dire. Bisognerebbe approfondirlo. Sicuramente la maggior parte avranno già mollato il video. Mi dispiace perché il gioco non è assolutamente male. L'abbiamo capito solo alla fine, solo praticamente dopo non so quanto sia passato, credo sia una mezz'oretta quasi. Ha potenziale, senza dubbio, è già in 1.0. Il gioco non credo sia nemmeno troppo costoso perché costa 20 euro. È in italiano. Però cavoli il tutorial si poteva presentare meglio. Vedi, stop, fermo. Qui in alto hai questo, qui hai questo, qui hai questo. E invece è fatto veramente male il tutorial. Tra l'altro, alve chiudi, tornando all'inizio abbiamo poi le campagne che tra l'altro mi sa che abbiamo già finito e stavamo già iniziando, che ci portano sempre in luoghi diversi. Vedete che azioni, si scelgono il raggio degli estrattori, cioè si selezionano le varie opzioni scenario. Oltre che la costruzione libera, che è la modalità sandbox dove facciamo un po' quello che vogliamo. Messaggio dallo sviluppatore. Potrei costruire... Ma è lui questo? Non so se sia italiano, però diciamo che la mia critica al gioco è questa, perché potenzialmente è veramente figo. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Qua sotto nei commenti io vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!